Sindaco, lei ogni anno ai suoi cittadini porta un dono, un panettone del torrone, un simbolo d'amore e di vicinanza verso i suoi cittadini. Sì, è una tradizione che portiamo avanti da 27 anni e ogni anno è sempre un momento di gioia, di festa e di condivisione, sia gli anziani che i bambini. Con i bambini giriamo tutte le classi, quindi consegniamo a tutti un panettone e c'è una felicità enorme negli occhi degli stessi perché se l'aspettano e contano i giorni per arrivare a questa fatidica data dove ogni anno noi andiamo a portare i panettoni. Gli anziani anche loro ci aspettano e sono felicissimi perché ci sono tanti anziani che vivono anche da soli e aspettano la visita come se fosse proprio la manna che gli scende dal cielo. E a noi fa tanto piacere perché stare vicino agli anziani è bello, è una cosa che veramente ci emoziona perché poi si sente quell'affetto, quella vicinanza che loro manifestano nei nostri confronti e quella attesa anche, quella attesa che è bella perché nel momento in cui ci vedono arrivare con il panettone alcuni riempiono gli occhi di lacrime, alcuni scoppiano un sorriso proprio benevolo e quindi c'è questo affetto, questa empatia che c'è tra noi amministratori, queste fasce sia bambini che anziani e che è una cosa bellissima e ogni anno si rinnova, ogni anno è sempre più bella e per noi è una cosa bella, bella perché veramente ci rende felici in un momento particolare come quello delle festività natalizie dove c'è bisogno proprio di questo amore, di questa unione, di questa vicinanza perché poi Natale, Natale è questo, Natale non è il cenone, non sono i fasti, non sono i regali Natale è proprio questa bellezza che si raggiunge attraverso questi gesti e questa vicinanza con bambini e anziani veramente realizza questo aspetto ecco non è un gesto che un cittadino ha bisogno perché non ha la possibilità di comprarsi il panettone ecco specifichiamo ma è un segno diciamo di... no 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 non è la questione economica economica è quell'affetto che attraverso il gesto si realizza l'istituzione che si avvicina sì perché poi molti anziani chiamano i loro parenti e gli dicono è venuto il sindaco, mi ha portato il panettone cioè lo dicono con orgoglio, proprio con affetto anche perché questo sindaco è un territorio dove ci sono i valori ecco anche perché qua c'è la longevità delle persone che è alta anche sullo studio del professore Walter Longo qui ci sono i centenari la popolazione abbastanza... sì ci sono tanti anziani, oltre 90 anni che sono monumenti, monumenti proprio alla storia la storia del nostro comune ma anche la storia d'Italia perché poi c'è persone che hanno affrontato la seconda guerra mondiale quindi ricordano... dalla guerra ai tempi di oggi dalla guerra ai tempi di oggi dal ventennio ad oggi insomma possono raccontare quello che è stata l'Italia quello che è diventata cioè quindi sono una memoria storica vivente